Nulla è più caro a Dio e agli uomini dell'umiltà. A ogni molestia e insulto che ti venga fatto, devi rispondere con mansoitudine e con umiltà. Se ti arriva all'orecchio qualcosa di sgradevole, guarda che non salga subito a turbare il tuo animo. Tra l'orecchio e la tua sensibilità ci deve essere come una via tortuosa e difficile, in modo che le parole offensive arrivino alla tua sensibilità svigorite e non possano ferirti che leggermente o per nulla è degno veramente di essere chiamato uomo solo chi non si lascia sconvolgere dal vento delle chiacchiere.